Continua il nostro viaggio nel centro storico di Bastano del Grappa per tenervi aggiornati su quello che sta succedendo, su quella che oggi sta diventando una vera e propria emergenza, cioè la chiusura dei negozi. Oggi siamo in via Vittorelli, al momento sono 5 i negozi chiusi, ma presto saranno 6. Venite con me. Lui è Francesco Latorre e questo è il suo negozio di via Vittorelli, l'ennesima attività che presto chiuderà i battenti nel centro di Bastano del Grappa. Quindi lei proprio ha deciso di chiudere? Sì, sì, sto insomma tirando gli ultimi conti, passata l'estate, questa sarà la decisione. Una piccola bottega gastronomica, quella di Francesco, aperta con sacrifici 4 anni fa in era Covid. Attività che assieme ad altre 5 della via non è riuscita a sopravvivere allo spopolamento del centro storico. Forse andrà sempre peggio, più che altro manca la gente che passeggia in centro, è quello, perché la massa porta qualcosa nei negozi. Ma se non c'è più passeggio, ne stanno risentendo anche i bar. Io ho colleghi qui vicino a me di bar, di caffè, di spritz, che sono a metà degli incassi dell'anno scorso. In cassi dimezzati, spese raddoppiate e affitti sempre più cari, un'equazione che affonda l'economia soprattutto di prossimità, ma non solo. L'affondo decisivo nel caso dell'attività di Francesco, una richiesta negata dall'amministrazione comunale. Di cosa avrebbe avuto bisogno per non chiudere? Io personalmente di un po' di suolo pubblico, di spazio dove fare la somministrazione del mio negozio, perché l'ho richiesta e per cose che adesso sono lunghe da spiegare non mi è stata concessa. E quindi magari aiutandomi con qualche tavolino fuori, somministrando i prodotti che io soltanto vendo in questo momento, forse questo mi avrebbe aiutato.